Prozovic la vorrebbe D'Ambrosio cercato in area con la sponda ancora per Prozovic Prozovic dove l'ha messa sceglie un momento decisivo per piazzare il primo gol in campionato Marcelo Prozovic Perisic con il tacco la mette in mezzo Lautaro Lautaro Martinez sulla giocata di Perisic ha toccato sì perché esulta Lautaro Martinez Maggiore potrebbe calciare Maggiore Maggiore Clospezia rientra nella partita con il gol di un interista Maggiore Sanchez prova ad andare lo tiene così Nicolaus si gioca Lautaro Lautaro per Sanchez Sanchez l'Inter la richiude con Alexis Sanchez i due attaccanti mandati in campo da Inzaghi scambiano e fa 3 a 1 Occhio a Calulù il cross in mezzo arriva Leao e il Milan è in vantaggio all'undicesimo minuto di gioco la sblocca Raffaele Leao il gol dell'1-0 il gol importantissimo di Leao che va a prendersi l'urlo di San Siro Teo Hernandez dentro per Rebic Rebic per Brahim Dias ancora Rebic palla per Messias miracolo di Sirigu e poi sulla ribattuta Junior Messias fa 2 a 0 ancora Marin pronto al traversone finta il cross parte ora il pallone a centro a recolpo di testa di De Iola e Cagliari in vantaggio ha segnato va di piede De Iola dentro per Fazio e la Salernitana è avanti 1-0 dopo 4 minuti Federico Fazio Dioric la sponda di testa per Ederson che se la lunga Ederson arriva in area di rigore Ederson fino in fondo calcia Ederson 2 a 0 Salernitana che grinta che voglia di salvarsi 2 a 0 il Ferraris Attenzione a Sensi il pallone buono per Caputo Caputo accorcia la Sampdoria con il gol dell'1 a 2 Ciccio Caputo Pereira libera Molina subito il cross dentro a cercare success e a trovare la deviazione nella sua porta di Ismaili L'Udinese la sblocca con l'autogol del difensore cross di Molina che manda in tilt Ismaili Deulofeu guarda la porta ci prova Deulofeu 2 a 0 Udinese manda baci dopo il destro al bacio all'angolino Gerard Deulofeu va Pinamonti stesso lato Silvestri tocca anche questa stavolta però c'è più potenza 2 a 1 Empoli gol numero 10 in campionato per Pinamonti Deulofeu cerca ancora Pussetto in area Pussetto Pussetto 3 a 1 Udinese dalla panchina segna Nacio Pussetto Samarzic Samarzic con la suona vuole calciare super super goal per il 4 a 1 dell'Udinese partecipa alla festa anche Samarzic il pallone di Biraghi per Igor che lo ripropone e poi in mischia Torreira porta in vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora da un metro forse da mezzo metro fa 1 a 0 Lucas Torreira Schauten c'è l'1-2 Soriano filtrante per Arnautovic che supera Shesny Marco Arnautovic gli ultimi 6 gol del Bologna li ha segnati tutti l'austriaco che arriva a quota 12 in campionato Bernardeschi palla arrotata a Rabiot poi si coordina Morata da sottomisura Vlaovic pareggia la Juve al 95esimo con il gol numero 23 in stagione di Dujan Vlaovic parte Riccardo Rodríguez Pellegri Toro in vantaggio all'undicesimo della ripresa colpisce Pietro Pellegri arriva anche Lazzari che lascia Miliko Vlaovic il cross del serbo immobile sui titoli di coda immobile la pareggia è 1-1 all'Olimpico la rincorsa di Insigne il destro nell'angolo Ruiz Patricio intuisce ma non basta Napoli davanti minuto 11 fanno 9 in campionato per Lorenzo Insigne Karstorp Pellegrini in mezzo Felix la lascia passare Abraham di tacco El Sharawi per il pareggio Roma il recupero comincia così con l'Uruo 1 giallo-rosso Stefan El Sharawi Ilice se la allunga ripalo favorisce Caprani che apre Simeone in aria Simeone col tocco sotto ha segnato Lella Sferona Ilice sale centralmente ha un po' di spazio Tamez 1-2 Ilice passa in aria il ripallo ed è 2-0 raddoppia Lella Sferona il gol di Ilice Zappacosta che punta Ongla pone lo spazio per il cross che arriva dentro Scalvini Scalvini accorcia l'Atalanta nel finale Ongla